Bentornati amici nel mio canale. Questa sera mi trovo in giardino e da lontano noto questa luce gialla. Si spegne, si riaccende e cammina. Con stupore mi chiedo, è una lucciola? Sono passati ormai tantissimi anni dall'ultima volta che la vidi. Stupita, meravigliata, la osservo e chiamo a me i nipoti. Ops, la luce si spegne per poi riapparire poco dopo. Grazie. Ricordo ancora quanto ero bambina. I prati erano pieni di lucciole. Ce ne erano tanti, ovunque. E noi bambini ci chiedevamo sempre questo animaletto come fosse, alla luce del sole, come sembrerebbe, ma non abbiamo mai potuto vederlo, perché appunto lo vedevamo solo di notte. Ma oggi ho la nuova tecnologia. Accendo il flash del cellulare, ed ecco qui. Cerco l'insetto. Trovato! Ecco, vedi? Io la vedo proprio adesso bene. E qua è il pezzo, perché sono proprio uoio. No, vedi? Mo si è girata, vedi? Sembra quasi un vermiciattolo. Sembravano insetti scomparsi, eppure piano piano stanno tornando. E adesso tutti insieme osserviamo come l'insetto perde la sua luminosità. E man mano si spegne. Che dire, è fantastico rivedere dopo tantissimi anni un insetto ormai scomparso. E questa gioia volevo condividerla con voi, amici del canale. Grazie per aver guardato il video. Un abbraccio. Ciao, alla prossima! No, si è spenta. Eh sì, perché mo si è attescigliata. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti